Non ho capito un cazzo! Annamoo! Quando le partite sono così unbalance non è bello. Cioè, nel senso, cosa c'è di bello nel... Nel... In questo. Dove a turno 7 le partite si definiscono. Turno 7 trovi quello che ha beccato la carta giusta ha vinto, no? Fino a che non lo nerfano, BG non potrà mai essere la mia preferita. Allo stesso tempo, i duelli sono belli, ma se tiri la botta di sfiga sui duelli eh, fa molto più male che della botta di sfiga su BG. Perché poi narrando i duelli dura più tempo, spendi dei gold per giocare, insomma. È lunga, è lunga. Ma lo so, dopo dipende. Poi magari sarà anche che appunto ultimamente sto avendo un po' di sfortuna e non riesco bene a fare le cose io qui, su questa modalità. Io ci provo, ragazzi, io ci provo. Faccio entrambi così accontento tutti. Sicuramente faccio questo. Ta? Vabbè, bait gigantesco. Cioè, fosse stato il Tide Hunter o il Tide Hunter solo, l'avrei anche fatta, ma questa no. Mega bait, mega bait. Io nel dubbio frizzerei. No, 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 assolutamente no, Sonny. I gold vanno spesi in modo catartico. Che non so cosa voglio dire, ma in modo penzo. Lezzo. Ah! Oh, 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 oh. Ok. Questo early game ci piace. Li prendo entrambi, il prossimo turno prendo la spawn, no? Questa è una... Sì, ha più statte lui. Oddio, potrei comprarli entrambi il turno dopo, eh. Questo è un bel early game, per esempio. Grazie. Bene. Adesso qua da lei perdiamo. Lei ha tre draghi. Normale da Maiev. Vabbè, ci sta. Lei ci sta che ci batta. Speriamo di prenderne solamente tre. Ok, tre. 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 Ah, ne prendiamo sempre tre, a posto così. Ok. Vediamo come sono le bet, per esempio. Le bet sono 40 win, 60 loss. Ed è giusto che siano così. Però... Però, me coglioni. Hmm. Hmm. Si ha fatto il level up, ora vuol dire che lei ha già elementali in board. Appunto. Speculare, noi siamo un po' più forti, perché abbiamo la spawn. Ah. Però tu c'hai tre di attacco. Ah, e c'hai anche tu la spawn. Ritiro quello che ho detto, allora. Quello con tannoncino. E allora steppi che ti sono arrivati sicuramente i punti, man. Vabbè, prendo quattro danni. Ecco, lei è molto forte, per esempio. Lei... Sono danni gratis, quelli che prendo adesso. Purtroppo lei... Ma va bene, va bene, va bene. Va bene. Oh! La metti così? La metti così? Alla fine, cioè, nel senso, non è brutta questa goccia. È che io sto gridando. Allora, non è che sto gridando. Secondo me è gridi in due modi diversi. Nel senso, doppia goccia significa essere gridi ora, nel senso, perché non ho fatto un roll. Non ho fatto un roll. Però anche il roll potrebbe essere gridi, perché se trovi merda, hai sprecato un gold. Quindi, in realtà, compro la goccia, credo che sia leggermente meglio del roll. Farmo restando che qua perdiamo. E quindi... È questo il mio problema, raga, che sto perdendo tanto in early. Ciao, Max. Sto perdendo tante vite in early game e sono i bigolo. Il bigolo non deve perdere vite in early game. Capisci? Vai su il 6-2, please. Cazzo. Va bene, sono sette danni. Sono sette danni, sono sette danni. Sono sette danni. Abbiamo 24 vite, siamo bassi di vita. Siamo bassi di vita. Vedi, se io avessi fatto questo roll, preferisco avere i due soldi qui che questo roll. Quindi va bene. Lui fa una tripla, però. Il che è male. Questo è molto buono. Io ho due roll che mi sa che sfrutto perché devo trovare elementali fighi. Bingo! Bingo, ragazzi. Questo è bingo. Questo è veramente il bingo, cazzo. Eh, già. E questo è buono. Questo è buono. Questo è buono. Porca troia, quante statistiche c'ho. Mi manca l'attacco, però. Cazzo, non aver trovato i party elemental, che brutto. Oh, porca troia, non ci crederai. Hai fatto dorato pure te. Hai fatto pure tu il roccia fusa golden. Qua vinco perché ho la spawn. E perché lui fa ità con 5. Cazzo, l'ha fatto golden pure lui. Porca troia. Grazie, Carminone. Bella per i 33. Ciao, Carmine. Bella per i 33 months. Quanti pepi ti ha scommesso Pellic prima di andare a mangiare? Vediamo. Lei ha fatto una tripla al 6 a turno 7. E leggo Draghi. E fa un po' paura. Se lei ha Calegos, sono cazzi. E' Chef Nomi. E' Chef Nomi. Per troppo è Chef Nomi per forza. Ma sapete perché è Chef Nomi? Perché lei ha 12 vite. E lei sta per morire e ha 4 elementali. Lui se ha Calegos... Allora, c'è un enorme problema in realtà. Che non è tanto quello di adesso di trovare lei. Il problema non è trovare lei adesso. Che lei mi farà danni. Il problema è che anche Tess ha affrontato lei. Quindi se lei ha Calegos... Ci sono due Calegos... Ci sono due Chargla in giro. Qua lo batto perché non è Calegos. Ci sono Chargla e Chargla. A T7 ci sono due Chargla in giro. Porca broia. L'Hirol. Mi strappo lo scroto per l'Hirol. Allora, mi servono elementali. Letteralmente qualsiasi elementali tu voglia darmi mi va bene. Tu se muori sarebbe figo. E lei è morta. Quindi abbiamo elementali anche da lei. E elementali anche in shop. Porco cazzo. Devo sopravvivere a sto turno. Costi quel che costi. Prendo il Guardiano e mi fanno 2 discover del 6. Oh cazzo. Oh cazzo. Merda. Imp mamma. Lei ha fatto una seconda tripla. Mi servono danni a me. E allora entra Jin. Questo non è un luogo per mortali. Eh. Vabbè. Si fa così lo stesso, no? Si fa così lo stesso, dai. Si fa così lo stesso. Adesso Vincenzo Marrone. Mi sa che speri molto male, sai. Secondo me questa è la miglior cosa che posso fare. Vincenzo Marrone. Vai pure a mangiare. Quando torni ti troverai povero. Ti troverai povero. Ti troverai povero. Non volevo mettere goccia prima perché... Io pensavo che lei... Cioè lei pensavo che avesse comprato quella chargla. Invece non so perché non l'ha fatto. E quindi mi aspetto comunque una board non con tanti divine shield. Qua ho messo Imp mamma perché devo vincere io, eh. Ho messo Imp mamma perché devo vincere il fight. Cioè anzi. Non devo perdere. Che è diverso. Facciamo un cazzotto nei denti a lei. E' morto un altro. E mo iniziano i problemi. E mo... Adesso Bigolo inizia a farmare ciccioni. Orco di azz! Ah devo spendere il gold purtroppo. Allora. Questo se ne va. Questo entra. Eh già. Chi mi ha bettato contro? Stavolta. Abbiamo vendicato. Abbiamo vendicato il ragazzo. Il mio brutto Bigolo di ieri. Vero? Ho tenuto un 11-13 in mano. Ho tenuto un 11-13 in mano perché non riesco a migliorare. Qua era troppo più forte. Lui ha giocato 400 elementali. Eh già. Allora. Lui quando muore non mi dà niente da mangiare. Neanche lei. Neanche lui. Neanche lui. Siamo solo alla ricerca di triple noi qua. Solo alla ricerca di morti che ci danno la loro golden che hanno in borde. Dai. Ammazzatemi con lo stronzo di... Dai vecchio. Com'è possibile che non mi ammazzate Ginny? Dai vecchio. Serio. Vai su Ginny. Bravo. Cazzo. Mi dà. Bello. Level up eh. Io qua level up raga. Io qua level up. Lui è forte eh. Però. Non abbastanza forte. Level up. Prendiamo sta tripla. Anzi magari muoiono in due. Urco diaz. Muoiono in due veramente? Eh vabbè. E poi quando succede questo Bigolo va verso... Verso strane cose. Verso strane cose. Proviamo a tenere Gar. Oddio non conviene tenere Gar. Non conviene tenere Gar. Non conviene tenerlo Gar. Eeeh... A posto. Oddio non è giustissimo il positioning ma... Credo... Che siamo a posto. O no? Vabbè questo cazzo ha il veleno. Ok. Ok ok ok. Mi spiace che non c'è nessuno che gufa. E certo perché... È giusto così. Bravi cazzo voi che avete belivato in Bigolo. È sempre giusto. Madonna ragazzi. Ragazzi. Porca troia. Pure la tempesta elementale. Ok. Vabbè questa è l'Ital al 23. Questa è brutta come l'Ital. C'è più che altro perché purtroppo non serviva. Però va bene. C'è lui non ha niente. Che voglio? Sono due morti di nuovo. Ce la vediamo io e lei. Io l'ho ragazzo ubriaca. Questa è una tripla. Dai vecchio. Poco tempo. Poco tempo. Poco tempo. Poco tempo. Poco tempo. Oh cazzo Merda Non ho capito Non ho capito niente Non ho capito Neanche il gioco sembra che abbia capito qualcosa Che cazzo è successo Sto game Porca troia Cosa minchia è successo Ciao youtube instant Cosa è successo Gli ultimi tre turni La situazione è precipitata in tre turni No è morto Peccato che sia morto Wow Beh ciao youtube Per forza ciao youtube Madonna che bigolata Che bigolata arrogante Ragazzi Porca troia Che cattiveria Ma regà giuro Vi giuro che alla fine non stavo più capito Cioè io ho ancora tipo dei 20 Ma questo qua è un 4-1 Questo qua è tipo un 11-20 Questo qua è un 11-19 Porca troia Pagato la bet Wow Ciao Ciao